A Palmi è emergenza rifiuti, in particolare nella località della Tonnara, situazione insostenibile da dove giungono foto di montagne di rifiuti che sembrano accatastati da settimane. Invece, per quanto è difficile crederci, l'azienda che effettua la raccolta dei rifiuti ha prelevato i cumuli di spazzatura giovedì scorso, giorni in cui è prevista la raccolta dell'indifferenziata. Il problema principe rimane proprio quella della corretta differenziazione dei rifiuti, che in alcuni quartieri non avviene. Il mio invito è ancora una volta quello di differenziare, seguendo le indicazioni del calendario distribuito dall'azienda e il messaggio del sindaco Giuseppe Ranuccio. Il servizio di raccolta, in buona parte della città, aggiunge, è ormai entrato al regime e la raccolta avviene regolarmente. Il problema si crea dove non avviene la differenziazione dei rifiuti, perché da regolamento e contratto con gli impianti di smaltimento abbiamo ricevuto un calendario con le indicazioni dei giorni in cui smaltire le diverse tipologie di rifiuto. E dobbiamo rispettarlo. La diminuzione dei servizi, come ad esempio il servizio di spazzamento delle strade e di pulizia delle spiagge, dipende proprio dalla natura del contratto stipulato tra il Comune di Palmi e l'Ocride Ambiente, contratto che l'amministrazione comunale ha intenzione di rivedere molto presto. C'è ancora un altro problema che ci penalizza, aggiunge ancora il primo cittadino, e riguarda il fatto che per gli esercizi commerciali non è stato previsto un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti ed è impensabile. Un bar, un ristorante, uno chalet sulla spiaggia producono una quantità di rifiuti maggiore rispetto a quella prodotta da una normale famiglia. E sarebbe stato corretto, conclude il sindaco, prevedere un servizio di raccolta potenziato. Nel frattempo il Comune di Palmi, in attesa di poter incontrare i vertici di l'Ocride Ambiente, per capire se ci sono gli estremi per rivedere il capitolato d'appalto, si sta dotando di videotrappole e videocamere di sorveglianza installate in dieci punti della città per tentare di arginare il malcostume dell'abbandono selvaggio dei rifiuti in strada, elevando sanzioni ai cittadini che lasciano in giro rifiuti di ogni genere.